Che succede quando la luce incontra determinati tipi di oggetti sui 50 gradi? Dove la rivedete qua? 50! L'angolo di incidenza è uguale all'angolo di riflessione. Quale mano vedi nello specchio che si alza? La sinistra! Alza un po' la mano sinistra! Ce la va, puoi vedere nel scapologio di macchie? Sì! Ancora, 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 bravissimo! Eppure, bella, sono guardata! E il cisma confone a riuscire le varie tradizioni romantiche. Questo è il raggio di mezzo! Beh, che forza! Guarda, sono sicconizzati! La vedi di margine in movimento? Sì! Come prima? Ma che è un po' questo signore? Ma invece è questo! No, ma no! No, ma no! No, ma no! Chià steinda anche della finer сидia fumette del cappone animisto! Grazie a tutti.